Il 31 gennaio scadono le iscrizioni alle scuole superiori. Quali sono le attività della città metropolitana nel campo dell'orientamento? Come città metropolitana abbiamo il servizio obiettivo orientamento Piemonte, che in questo momento è molto attivo, facendo principalmente queste cose, attività di informazione, incontri di gruppo, nelle scuole, con i ragazzi, anche con i genitori, aperte anche ai genitori. Facciamo, sia nelle scuole, sia presso i nostri sportelli di obiettivo orientamento Piemonte, facciamo colloqui individuali per aiutare i ragazzi a definire al meglio la loro scelta. Presso gli sportelli diamo anche la possibilità alle famiglie di essere aiutati, utilizzando le nostre postazioni, nella registrazione della pre-iscrizione che bisogna fare entro il 31 gennaio. Inoltre, per i ragazzi che sono più interessati alla formazione professionale, abbiamo anche la possibilità di attivare dei laboratori della durata mediamente di sei ore, in cui i ragazzi provano un mestiere, provano le mansioni tipiche di un mestiere, possono parlare con dei coetanei che frequentano un determinato corso di formazione professionale e dei professionisti di quel settore, per capire se effettivamente quel settore è di suo interesse.